Il primo via libera del Senato al disegno di legge sulle unioni civili è considerato un primo passo, ma ancora non sufficiente. In migliaia in piazza del popolo a Roma hanno manifestato per rivendicare il riconoscimento di tutti i diritti per le coppie gay, figli compresi. Siamo in piazza perché è stato fatto un primo timidissimo passo, che è quello del riconoscimento delle unioni civili, che non è sufficiente. Siamo in piazza per chiedere il matrimonio ugualitario, siamo in piazza per chiedere la stepchild, che dovrebbe essere un gesto di civiltà come è in tanti altri paesi. I miei figli, il loro legame con uno dei loro genitori non è riconosciuto dalla legge e questa è una cosa che non è giusta, per cui siamo qua per chiedere che vengano trattati da bambini di serie A e non da bambini di serie B. Il PD si è impegnato perché le stepchild vengano inserite in un DDL ad hoc sulle adozioni, per il quale verrà chiesta una corsia preferenziale sia alla Camera che al Senato. Grazie. 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 Grazie.